E questo è il calcio, puoi giocare meglio o peggio, essere il più forte o il più debole, alla fine quello che conta è vincere. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali, non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. È finito il tempo a nostra disposizione, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Ricambio ringraziamenti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.